Precedenza al mondo del lavoro. Fratelli d'Italia ascolta le categorie per costruire il proprio progetto di sviluppo del sud e del territorio dell'area metropolitana di Napoli. Darà vita a organismi per raccogliere le istanze delle categorie, delle professioni e delle imprese. E quanto è emerso dall'iniziativa tenuta nella sala eventi di eccellenze campane da Gabriella Peluso, dirigente nazionale per le politiche del mezzogiorno, Marta Schifone, dirigente responsabile del dipartimento professioni, Michele Schiano di Visconti, coordinatore dell'area metropolitana di Napoli e Sergio Rastrelli, coordinatore di Napoli per Fratelli d'Italia. Dalle eccellenze del mondo del lavoro, delle professioni, delle imprese che chiedono punti di riferimento politico. Come Fratelli d'Italia siamo in campo per ascoltare i rappresentanti delle categorie, per raccogliere le loro proposte e quindi costruire insieme il progetto di sviluppo per il sud e per il nostro territorio. Perché soltanto attraverso l'ascolto è possibile tradurre in azione politica la voglia di riscatto del mezzogiorno. Noi stiamo costruendo una destra identitaria, un centro riformatore fortemente ancorato a destra, che abbia però la possibilità di aprire il campo a nuovi scenari, di essere sempre più attrattivo e di essere interlocutore privilegiato del mondo della produzione. In questo senso questo convegno ci pone all'ascolto delle categorie e diventa per noi l'occasione di un tavolo permanente in strettissimo raccordo con la società.